è tardivo perché c'è stato il covid un mezzo ma ci faceva piacere con l'amministrazione comunale riconoscere il vostro valore anche sportivo non 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 a premiare la regione vincitrice di questo campionato nazionale di sci nella protezione civile 2387 punti. Signori, la Toscana! Trofeo alla regione vincitrice che farà per la vostra regione vincitrice di questo campionato nazionale di Toscana! Quando si fanno le cose con passione, si fa con passione anche lo sport. La VAPA fa con passione il suo lavoro di volontari dell'antincendio boschivo e si danno un grande affare, sono molto appassionati, approfondiscono quello che devono fare e credo che facciano lo sport con la stessa intensità e questo bel risultato li premia, quindi è stato molto bello per me dargli un riconoscimento da parte della loro città. È veramente un'emozione, dopo tanti anni alla fine siamo riusciti ad avere questo premio con tanta fatica, tanta convinzione e siamo veramente un bel gruppo con una grandissima soddisfazione.